Nini Maselli resterà al timone dell'acquedotto pugliese almeno fino al 2013. Il governatore Vendola spegne polemiche e ridimensiona la fuga di notizie sul manager Gentiluomo dato per dimissionario da ACUPI. Il tutto alla vigilia dell'Assemblea dei Soci del prossimo 25 giugno dove il partner di maggioranza, la Regione, detterà la linea per il futuro. A Maselli l'incarico di continuare l'opera intrapresa di fare pulizia nella gestione e sugli stipendi d'oro. Nel caso, dice Vendola, potrà usare il pugno di ferro e cacciare i dirigenti non allineati a criteri di sobrietà, moralità e rispetto delle regole. La Regione modificherà pure lo statuto nella parte relativa al direttore generale, l'attuale Massimiliano Bianco nominato dall'ex amministratore Monteforte e entrambi finiti nel polverone mediatico per compensi e benefit ritenuti troppo eccessivi dalla Giunta. D'ora in poi la funzione del direttore sarà depotenziata e messa sotto il controllo dell'Assemblea. Intanto, Vendola fa partire il taglio delle bollette per i poveri annunciato lo scorso anno. La misura sarà retroattiva e oltre al 2013 le 350.000 famiglie beneficiarie recupereranno il bonus promesso per l'intero 2012, 50 litri di acqua gratis al giorno, sfruttando anche le recenti decisioni dell'autorità nazionale sull'energia. Via Libera inoltre all'ingresso in acquedotto del Comitato degli Utenti che svolgeranno un controllo sociale sull'attività. Lo statuto infine sarà adeguato ai richiami della Corte dei Conti sull'irregolare ripubblicizzazione dell'ente idrico pugliese. La Regione tuttavia manterrà in piedi l'impegno politico di evitare la vendita delle azioni ai privati.